Il suo ultimo libro, Opposizione, l'ultima battaglia di Enrico Berlinguer per Solferino. Allora, hai voluto raccontare gli ultimi mesi della sua vita e dici, non è mai stato attuale tanto quanto oggi, in effetti è così. È incredibile, in questo anniversario sono 40 anni e più vicino di quando eravamo a 20 anni dalla morte. Le condizioni in cui Berlinguer combatte la sua ultima battaglia sono abbastanza note. Crisi economica, c'era allora e c'è oggi. Crisi energetica, c'era allora e c'è oggi. Inflazione, c'era allora e c'è oggi. Rischio guerra, purtroppo c'era allora e c'è oggi. I temi su cui lavora la pace, l'ambiente, le donne, negli anni 80 sono follie strane per Santoni e oggi tutte queste cose sono attuali. Tra l'altro su Berlinguer si discute sempre su quant'era comunista, quant'era aperta alla modernità. In realtà era aperta alla modernità nei temi, dici tu. Modernissimo, perché lui capisce una cosa, la capisce prima di tutti ed è proprio l'inizio di questo libro. Un giovane D'Alemi si trova con Berlinguer a Mosca al funerario di Andropov e lui dice queste sono mummie, è finito questo tempo. E quindi capisce che si va verso un mondo di disordine che è il mondo che stiamo vivendo. Fra l'altro c'era una guerra in Palestina, c'era una guerra in Palestina, c'era il tema dell'imperialismo di chi afferma con le armi, e allora c'era Grenada, altri episodi così, e lui capisce che c'è questo rischio enorme, cioè che il mondo vada verso il caos. Allora, una chiave di lettura quindi molto originale della politica di Enrico Berlinguer. Poi fai un esempio, la battaglia sulla scala mobile. Beh, quella è la questione sociale, che poi è un po' quello che manca alla sinistra di oggi. Fra l'altro anche qui c'è un parallelismo. La battaglia che Berlinguer fa addirittura due giorni prima di morire, anche nel suo partito, è per fare un referendum e difendere la scala mobile, perché sennò il prezzo di queste crisi, diceva nell'84, le pagheranno solo i più deboli. Che cosa sta accadendo oggi? Che il prezzo della guerra l'hanno pagato quelli che hanno 17% di potere d'acquisto in meno, il reddito più basso, la svalutazione più grande dei stipendi in tutta Europa ed è l'Italia. La manifestazione che convocò contro il decreto, 24 marzo dell'84, portò a Roma un milione di persone. Erano altri tempi, altri carisma, altri leadership, altri partiti? Beh, intanto c'era la potenza della macchina organizzativa, però io ho notato che la gente, quando la chiami a qualcosa, viene, parlava di loro, cioè diceva dobbiamo difendere quelli. Questa è la nostra ragione sociale. Si diceva qualcosa a qualcuno. Esatto, c'è una cosa molto bella in quel filmatone dei funerali che hai visto, c'è la fruttivendola del mercato e dice, io sono lavoratore, a me mi piace, ho l'idea sua, ma se non li difendiamo noi, quelli che difendono noi, chi li deve difendere? Questo automatismo. Cioè c'era un'identità. Esatto. Loro si vedevano e lui li vedeva. Quella era la grande scelta di vita che i grandi borghesi, Berlinguer, Napolitano Amendola, fanno. Cioè stiamo da quella parte, non è che giochiamo. E riporti una frase di Berlinguer. Da giovane ho fatto una scelta di vita, stare dalla parte dei più deboli, degli sfruttati, dei diseredati, degli emarginati e lo farò fino alla fine della mia vita. Perché una frase così importante? Mi piace che hai scelto proprio questa frase perché intanto c'è la sua formazione, la biblioteca segreta che trova nel cugino, le letture, il francese. Però mettere tutte queste cose non voleva dire solo i più poveri, che è un po' un termine semplificativo. Voleva dire che dovevi caricarteli tutti, i diseredati che erano stati cacciati di casa, quelli che tornavano dalle guerre e te erano sconvolti. Quindi aveva un senso la missione se te li caricavi tutti. E lui dice che a questa battaglia terrò fede fino a che sarò in vita. È quello che fa. Oggi come ieri, un tema a cui ti sei occupato anche in altri tuoi saggi, la sinistra è divisa. È divisa sulla stessa scelta. Cioè adesso per esempio il referendum Landini dove corrono frotti e i persone a firmare contro la precarietà. Il popolo lo capisce, manco fanno domande. Vanno e firmano perché dici sei contro 24 subappalti. Ovvio, sei contro il fatto che uno è stato licenziato ingiustamente e ottenga un risarcimento. Ovvio, invece per molte classi dirigenti, io parlo con tanti dirigenti, come te dicono ma forse non lo vinciamo. Ecco, Berlinguer nell'84 questa domanda non se la fa. Luca Telese, l'ultima battaglia di Enrico Berlinguer, opposizione. Grazie per essere stato con noi Luca in bocca al lupo. Benvenuto, concetto vecchio. Buonasera, lo leggete, giornalista di Repubblica.